non so a terra terra 1 ok gente da me, ho sentito passi ragazzi gente davanti a me ragazzi c'è, quando uno dice che c'ho le hack lui c'ho le hack, cioè non ce n'è e allora è qua 110 a terra 1 a terra 1 vai luigi eh ragazzi eh cosa devo farvi